Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosporizzazione Siamo qui per parlare di Formula 1 ragazzi Allora, 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 di cosa si può parlare? Vi avevo preso la stambitudine di fare il pregala ragazzi Vi avevo promesso di portare più video di Formula 1 ed eccoli qui Allora, innanzitutto andiamo a parlare un po' di tutto quello che sta succedendo ragazzi Di ciò che posso dirvi io Perché molto spesso noto che quando faccio un pronostico sia vera Perché diciamo che le mie analisi sono pro adani Nel senso che le mie analisi alla fine ti convolgono a pensare Cazzo, ma questo c'ha ragione Alla fine si verifica quello che dico Certo, se ora dico Hamilton arriva primo per stop e arriva secondo non per forza sarà così Magari a Hamilton gli si rompe il motore, non lo so Però noto che se vado a vedere nello specifico Non bisogna sempre andare a dare la colpa alla fortuna, alla sfortuna Vai a vedere nello specifico qualcosa È come quando a FIFA magari tu subisci gol e dici Madonna che palle No, poi se ti va a rivedere l'azione tu vedi che subisci gol perché partono tutti i gol Partono da un tuo errore E se tu vai sempre lo stesso errore cerca di migliorare quello Ma se i tuoi gol non te li vai a rivedere sono problemi Quindi insomma ragazzi, allora la mia prima analisi È che tra una lotta per Verstappen e Hamilton è il favorito Innanzitutto perché ha otto punti di vantaggio Verstappen è quello che può ottenere in testa Perché è l'unico Bottas si sapeva che non avrebbe tenuto a testa Uno dei golpi di scena di questo mondiale sarebbe potuto essere infatti Bottas che batteva Hamilton Perché Bottas subisce la pressione di Russell che potrebbe andare in Mercedes Perché Bottas comunque ha dimostrato di saper battere Hamilton Pochissime gare all'anno ma ha dimostrato questo L'ho dimostrato in qualche gara all'anno e magari se quest'anno aveva un po' più di costanza Poteva batterlo Il problema è che finora Bottas non ha fatto granché Assolutamente Anzi, purtroppo, nelle strategie Mercedes Bottas, d'ora in poi, sarà sempre in classi il Come si chiama? Il sacrificato Perché? Perché ha meno 38 Quindi Hamilton o si ritira la prossima gara e la vince Bottas In modo che Bottas vada a meno 12 Se fa anche il giro veloce Quindi Bottas può andare a meno 12 Che è comunque un distacco bello alto Però, insomma, molto meglio essere a meno 12 che a meno 38 Se dopo tre gare ti ritrovi a meno 38 Certo, potevi trovarti a meno 20 Anzi, meno 18 Perché Hamilton ha fatto quel secondo posto Diciamoci la verità, un po' farlocco Un po' farlocco Quel secondo posto a Imola Che per me sarebbe stato massimo un nono decimo posto Secondo me Perché se lì stava solo la safety car Magari Hamilton era meno favorito Perché Invece c'è stata proprio la bandiera rossa con la ripartenza Quindi lui è stato pure in grado di portare la macchina lì Cioè, perché ripartiva da Con la safety car sarebbe ripartito tipo Nelle ultime posizioni Invece così è stato molto, molto più fortunato Secondo me E vabbè, è stato anche bravo Ma soprattutto fortunato E questo penso che nessuno possa metterlo in dubbio Il fatto che Che Lewis Hamilton sia stato fortunato in quel Gran Premio Quando però tu La Red Bull è migliorata Perché se parliamo di lotta con struttori Forse sicuramente la Red Bull rispetto alla scorsa è migliorata Ma io Vedo ancora Hamilton inferiore Hamilton spererebbe di stopper e Bottas è superiore a Perez Perché si parla tanto di Bottas addormentato Ma si parla anche tanto di Red Bull Che è migliorata rispetto alla Mercedes Che Perez sta facendo quello che Albon e Gasly non avevano fatto Ma se Perez sta facendo quello che Albon e Gasly non avevano fatto Perché Perez non è davanti a Bottas nel mondiale? Perché hanno un Gran Premio fuori dai punti a testa Solo che io vedo che Vabbè in Bahrain Perez partiva dal fondo E vabbè Era partito undicesimo Poi è partito in pit lane perché aveva il problema Ma in Portogallo Bottas ha demolito a Perez ragazzi E quindi è inutile parlare di Red Bull superiore Se poi si parla di un Perez che è più forte di Bottas Cioè Bottas sta lì quando gli altri Ragazzi Bottas è un pilota di talento Fino a quando era in Williams Bottas era un pilota di talento E anche la prima stagione in Mercedes Non l'ha fatta male Poi se si è accontentato di fare Due o tre vittorie all'anno E nulla più alla fine Due o tre vittorie all'anno Una decina di podi Cinque o sei ball position Il resto Via Cioè Sto facendo veramente male Solo che comunque Come compagnolo di squadra Lewis Hamilton è sempre difficile Confrontarsi con lui E vabbè Quindi Se poi però tu chiedi a Bottas Di combattere Di fare il cagnolino di Hamilton E quindi di ostacolare Verstappen Alle strategie Bottas lo fa E tutti li vanno contro Ora che lo stavamo facendo Perez Mi sono andato contro Perché Hamilton Si è divorato Perez In un boccone Ma allora O mi parlate Di Red Bull Superiore Alla Mercedes Ma mi sottolineate Che comunque Bottas è più forte di Perez Oppure Oppure Avete la teoria Che è Perez È più forte di Bottas Ma mi confermate almeno La Mercedes Che è più forte Della Red Bull Quest'anno Perché insomma Alla fine abbiamo visto Tre gran premi Quindi non si può decidere Da qui Abbiamo visto tre gran premi Perché se tutto l'anno Mettiamo che Quest'anno Tutto l'anno Domina la Mercedes E gli ultimi tre gran premi Sarebbero questi tre Nessuno parlerebbe Di Red Bull Però la Mercedes Quindi sono solo Tre gran premi Quindi una Red Bull Così tanto superiore Io sinceramente Non la vedo Per me sono dei capolavori Di Verstappen Questi La Red Bull Paga ancora Circa due decimi Al giro Alla Mercedes Secondo me Due decimi al giro Forse no Parlo di due decimi Normale Magari come tempi Di qualifica Va poi è vero Che in qualifica Ognuno mette il suo assetto Con lo stile di guida Eccetera eccetera Verstappen può battere Hamilton? Sì Ma a tre condizioni Ragazzi Perché Hamilton Innanzitutto Per battere Hamilton Devi essere più veloce Di lui Perché Hamilton È sempre stato un pilota Che ha vinto con la testa Con la velocità È molto veloce 99 pole E 97 vittorie Non si fanno a caso Ma comunque Devi essere innanzitutto Più veloce di lui Dato che con la testa Lui è insuperabile Perché Hamilton È uno che non fa Errori Ne ha fatto uno a Imola Ed è stato pur graziato Ne ha fatto uno a Imola Te ne fa Uno all'anno Di errori Hamilton Tra errori di strategia Ed errori del pilota Non te ne fa Più di due In un anno Ve lo dice uno Che ti va per rari E che ha visto Vettel combattere Contro Hamilton Non fa più di due Errori in un anno Nel 2017 Fece l'errore In Brasile Nel 2018 Fece l'errore In Germania E ogni Gran Premio È stato graziato Perché comunque Alla fine Fa dell'errore In Germania Vettel Si vitire E gli regala Il Mondiale Praticamente E vabbè Comunque Per battere Hamilton Non devi fare Errori Perché Hamilton La sua abilità Si è vista Soprattutto Nel Gran Premio Del Bahrain Quando si è ritrovato Davanti Giovinazzi E lui ce ne aveva Già nella testa Lui se lo programma Prima Se mi trovo Un doppiato davanti Mi programmo Al millesimo Che se me lo trovo Davanti All'inizio del rettilineo Faccio una determinata cosa Se me la trovo Alla metà del rettilineo Ragazzi Ora dite Oh va bene Al 2021 È tutto programmato Al millesimo Magari gliela Avrà programmato La Mercedes Questa strategia No ragazzi Cioè per me Uno deve pensare Di andare forte in pista Non deve pensare Solo a questo Questa è un'abilità Che a Hamilton Ragazzi Non so come Come si struttura Lui in un weekend Ma è una cosa Impressionante Perché tu puoi pure Studiarlo Ma poi mettilo in pratica Ragazzi Mettilo in pratica Lui l'ha sempre messo In pratica Non ha mai combinato Disastri Perché uno magari Se lo studia Poi si trova a Giovinazzi Oh cazzo Devo fare così Così Io lo so bene Perché ci sono passato Da queste cose Invece Hamilton È un fenomeno In questo Un fenomeno Ma anche Iperfortunato Perché dico Iperfortunato Perché ripeto Fa un errore all'anno E se quella volta Era rossa Peraltro Dai suoi Uno dei due Gli accompano di squadra Botta Serrasse Quindi Che coincidenze Vabbè Quindi E devi avere anche La fortuna Dalla tua parte Cosa che con Hamilton Molte volte non hai Però Questo non si può Programmare Quanta fortuna tu hai Magari al prossimo Gran premio Che ne so Verstappen fa una gara di merda Gli arriva la septicara E gli salva il culo Non lo so Vi faccio un esempio Però ragazzi Finora la fortuna È stata più Dalla parte di Hamilton Perché Verstappen Gli errori li ha fatti Certo È più veloce Di Hamilton In queste tre gare Però Portimao Ha fatto quell'errore Che ha consentito A Hamilton Di passare davanti In Bahrain Gli hanno fallito La strategia E poi lui ha voluto Superarlo Proprio al punto Dove c'erano i track limits Magari poteva aspettare Un giro in più Stargli dietro Mettergli pressione Aspettare un giro in più E superarlo In un punto Dove eri Quasi sicuro Di non aver Di non superare I Come cazzo Si chiamano I track limits Perché lo ha superato Proprio in quella curva Dove i track limits Si facevano Si facevano sentire Ragazzi Duello Quindi insomma Alla fine devi fare Qualcosa di straordinario Come pilota E come scuderia La Ferrari Lo ha fatto Nel 2017 Come pilota Non come scuderia Perché la Ferrari Era molto meno veloce Della Mercedes Nel 2017 C'erano circuiti Dove si prendeva Un secondo al giro Però Vettel Ha estratto veramente Fuori il conno Dal cilindro Ha fatto zero errori Poi vabbè La Ferrari In Giappone Lo ha piedato A Singapore C'è stato quello scontro Con Raikkonen Con il mondiale Per me ragazzi Alla di Vettel Anche con la macchina inferiore Secondo me Vettel Poteva veramente Vincere quel mondiale Il miglior Vettel Di sempre Non è stato Il Vettel Quattro volte Campione del mondo Ma è stato Il Sebastian Vettel Del 2017 Secondo me Ha fatto qualcosa Di straordinario Sorpassi fuori dal comune Si è preso dei rischi Ha battuto Hamilton in pista Ragazzi È stato veramente Un pilota eccezionale Sebastian Vettel Il 2017 Ha perso In Giappone Perché la scuderia L'ha piedato A Singapore Poteva vincere E c'è stato L'imbicidente Contra Raikkonen E Verstappen In Malesia Era il più veloce In pista E partito ultimo Per un errore Della scuderia Quindi insomma Ragazzi È stato veramente Iper sfigato Vettel Per me In quel mondiale In Canada Verstappen L'ha buttato fuori Ma potrei continuare All'infinito All'infinito E all'infinito Ragazzi Veramente Belgio e Spa Non erano Le sue piste Belgio e Italia Non erano le sue piste Quindi ragazzi Vedemi quello che volete Per me quel mondiale Lo vinceva Vettel Nel 2018 Ha avuto anche la macchina Al par di Hamilton Quindi poteva veramente Vincerlo lì Ma lì Ha commesso qualche errore Di troppo lui Dalla Azerbaijan Alla Germania Poi certo Non è stato neanche fortuna Però insomma Azerbaijan Germania Ha fatto veramente Tanti troppi errori Vabbè in Cina L'ha buttato fuori Verstappen Però insomma Veramente Vettel Quell'anno Ha fatto un casino Di errori E ha combinato Veramente Casini su casini Quell'anno Il mondiale Lo ha meritato Lewis Hamilton Per quanto riguarda Il duello Appunto Ferrari McLaren Per la terza posizione Vedo leggermente Avanti la McLaren Ora Ma leggermente Avanti la McLaren Perché c'è un Super Norris Parliamo di due scuderia Che hanno due piloti nuovi Sainz Che è un ex McLaren Appunto Sainz per la Ferrari E Ricciardo Per la McLaren E entrambe le scuderie Hanno due piloti forti Escutendo quanto è forte La scuderia Quest'anno Hanno due piloti Veramente Veramente forti Che se me la metti Su una macchina Che può vincere il mondiale Questi qua Se le danno Di santa ragione Però Norris Leclerc Ricciardo E Sainz Sono i quattro Tra i quattro Sicuramente piloti Più forti Dell'intero Circus Sicuramente Tutti e quattro Entrano nella top ten Dei piloti più forti Anche perché Oltre questi Quattro Ci possiamo mettere Hamilton Ci possiamo mettere Verstappen E sono sei Ci possiamo mettere Russell E sono sette Vettel Sicuramente un po' calato Ma potrei metterlo Comunque sicuramente Sono tra i sei Sette piloti Più forti Del Circus Quindi Si dice Circus Sì Quindi insomma Per me Hanno più potere Perché se è una scuderia Comunque da centro classifica Si beccano un secondo Al giro da McLaren E Red Bull Partiamoci chiaro Se l'anno scorso Se la battagliavano con Albon Quest'anno con Perez Penso non ci sarà storia Perché Perez Otterrà senza troppi problemi Il quarto posto Nel campionato pilota Poi vedremo Tutto è possibile Però per me Perez Ha già conquistato Il quarto posto Nel campionato pilota E' vero che dopo tre gare Perez si trova A 15 punti da Norris Che comunque Sono tanti Però nella gara dove Non ha avuto difficoltà Cioè insomma La fine a Imola Ha avuto difficoltà Per il fatto della pioggia Eccetera eccetera In Bahrain Partiva ultimo Dalla pit lane Quindi insomma Se andiamo a vedere però Portogallo Ha dato 30 secondi a Norris E quindi Ma non vuol dire che È più forte di Norris È più forte la scuderia Quindi per me Se non gli danno Se non gli va troppo Disfortuna Se non commette troppi errori Può tranquillamente Fare il quarto posto Perez Quindi questi qua Se la combatteranno Per il quinto Hanno uno strapotere Comunque Cioè hanno un potere Diciamo McLaren e Ferrari Dal centrogruppo Per centrogruppo Intendo oltre a McLaren e Ferrari Alpi, Naston Martin Alfa Tauri E Alfa Romeo Hanno più potere Rispetto ad Alpi, Naston Martin Alfa Tauri Alfa Romeo McLaren e Ferrari Però Non esagerato Diciamo così Perché alla fine Le Aston Martin Non è che si prendono Un secondo al giro Da McLaren e Ferrari Che poi ragazzi Hanno due piloti nuovi E guardate i casi Due piloti nuovi Sainz e Ricciardo Sono quelli che sono Costantemente Dietro al comprimo di squadra Ricciardo Ogni Gran Premio Se notate L'ha terminato Dietro Sainz Dietro Dietro Norris Ricciardo Ha terminato Ogni Gran Premio Dietro Norris Però Contemporaneamente Anche dietro Leclerc Quindi Norris e Leclerc Si combattono Diciamo il quinto posto Ricciardo e Sainz Il settimo Almeno per ora Poi vedremo se in futuro Cambierà qualcosa Ma a dubito Potrebbe sicuramente Ricciardo qualche bagara Riuscire a battere Norris Così come Sainz battere Leclerc Però per il momento Per il momento Per il momento Sainz È a 12 punti Da Leclerc Sì 12 punti No 14 È a 14 punti Dalle Leclerc Sainz Ricciardo Non ne parliamo Ricciardo Ha meno della metà Dei punti di Norris Ricciardo ha 16 punti Ammazza Ricciardo è praticamente A 21 punti Da Norris Sono comunque Tanti punti Per essere un team Di centro classifica Quindi insomma Dubito che riusciranno A superarli E Se invece Mi chiedete Tra Alpine Aston Martin Alfa Tauri Alfa Romeo Che si combattono Il quinto posto Nel campionato Con strutture Secondo me Vedo per il momento Davanti l'Alpine Infatti anche Quella che ha avuto Più punti Se non sbaglio Non ho con Il 12esimo Alonso nel mondiale Comunque sì Penso che l'Alpine Per il momento Sia davanti Poi c'è l'Alfa Tauri E poi l'Aston Martin E poi l'Alfa Romeo L'Aston Martin Che ha avuto Un tracollo Incredibile Cioè momentaneamente Io la classifico Come la settima forza Più Come settima forza Del mondiale L'anno scorso Era la terza In termini di prestazioni Stroll Ha estratto fuori Il coniglio dal cilindro A Imola Stroll Le gare difficili Vedo che fa anche belle gare Però per il resto Vettel Si deve un po' svegliare L'ultimo gran premio L'ho visto in crescendo È stato costantemente Davanti al comprenuto di squadra Nelle qualifiche Nelle prove liberi Nella gara E vedremo se continua Da così Williams Siasi sono i fanalini Ma di questi fanalini Russell è 10 spanne sopra Vedremo se Mick Schumacher Riuscirà ad ottenere qualcosina Però anche Mick Schumacher Battendo Latifi Che comunque guida Una macchina superiore Perché ragazzi La Williams è superiore All'As quest'anno Vedremo Latifi Vedremo Scusate Non Latifi Mick Schumacher Quanto sarà forte E Mazemin Sta facendo cagare Per me verrà sostituito A stagione in corso O da Hulkenberg O da Illoth Secondo me Perché veramente Mazemin Si è preso un minuto Da Mick Schumacher L'ultima gara Quindi per farvi capire Russell Gran pilota Da 30 secondi A Latifi Ogni gara Ma un conto Se ho 30 secondi Così come gli dà Verstappen a Perez Così come gli dà Hamilton a Bottas Così come gli dà Norris a Ricciardo Un conto è un minuto Ragazzi Un conto è un minuto A gara Perché veramente Gli dà un minuto A gara Mick Schumacher E comunque È un novellino È un cazzo di novellino Mick Schumacher Russell è qui da tre anni Quindi insomma Vedete voi ragazzi Però per me Mazemin È stata una scelta Sbagliatissima Della AS Che doveva per me Affidarsi A un certo Nico Hulkenberg Ma così come Dico Hulkenberg Ne stanno anche Altri piloti Svincolati Diciamo così Liberi Che potevano Prendere questo posto Va bene ragazzi Io le mie opinioni Le ho dette Momentalmente Ho detto come classifico Le scuderie Cosa deve fare Verstappen Per battere Hamilton Come vedo McLaren e Ferrari I fanali Indico Da ragazzi Qual è la quinta Forza del mondiale Insomma penso di avervi dato tutto Se adesso mi chiedete Un pronostico Per la Spagna Ragazzi Ahimè Hamilton ha vinto Le ultime tre edizioni In Spagna 2017 2018 2019 Verstappen ha vinto Nel 2016 Confermandosi Il pilota Cioè ottenendo Il premio Il record Di pilota più giovane A vincere una gara Quella gara Che terminò Verstappen Davanti a Raikkonen Per un secondo E per 3-4 secondi Su Vett Che arrivo al terzo Quindi insomma È una gara Che sta molto a cuore Verstappen Ma che secondo me Porterà a casa Ancora una volta Lewis Hamilton Secondo me Potremmo Reassistere anche A un risveglio di Bottas Però ripeto Per me in Spagna La vince Hamilton Per un motivo Per un altro Io vedo la Mercedes In Spagna Molto molto superiore Poi bisogna vedere Queste auto com'è Perché l'anno scorso La Ferrari con un 14 È arrivata a quarta Quest'anno ha avuto Veramente tante difficoltà A Portimao Cioè l'anno scorso A Portimao La Ferrari è arrivata a quarta Non troppo distante Dalla Da come si chiama Dalla Mercedes E da Verstappen Ora vedremo Perché l'anno scorso Ripeto L'anno scorso Quarto Quest'anno Boh Sesto Non si sa perché Va bene ragazzi Detto questo Io nel mio opinione Non l'ho date Il mio video Termina qui Spero che il video Vi sia piaciuto Se ti è piaciuto Mi dà lasciare un mi piace Cosa contraria Non dice like Come se siete d'accordo Se siete d'accordo Se siete d'accordo con me Se non l'hai ancora fatto Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al like Per seguirmi su Instagram Da MamiSpro07 è tutto E noi ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi